E' mancato oggi, a soli 67 anni dopo una lunga malattia, l'ex tecnico dello Spezia Walter Nicoletti. Di origini romagnole, nel 2003 ha seduto per 13 partite sulla panchina Quilotta, dove sfiora i play-off. Chiamato al termine di una stagione che ha visto alternarsi 4 allenatori prima di lui, ha totalizzato 19 punti, che però non sono bastati per agguantare gli spareggi promozione. Rimarrà però nei ricordi dei tifosi la causa di un incredibile episodio avvenuto nel derby interno contro il Prato, vinto dallo Spezia 2-1 grazie al gol decisivo di Mingazzini. Quando la partita era però ancora in parità, con una rete segnata per parte, Nicoletti diventa protagonista. Gli Aquilotti cercano il gol in tutti i modi, esponendosi però ai contropiedi avversari. Ed è proprio quello che succede quando Florian, ex Aquilotto, si invola sulla fascia con il Prato in superiorità numerica. Il giocatore passa proprio vicino alla panchina dello Spezia. Nicoletti è lì a dare indicazioni. In maniera furtiva allunga la gamba e sgambetta il giocatore, che cade a terra in credulo, mentre il mister continua a dare indicazioni come se non fosse successo nulla. Nicoletti l'espulsione e la rimedia comunque per eccessiva esultanza al gol decisivo di Mingazzini, che dà i tre punti agli Aquilotti. Storie romantiche di un altro calcio, un calcio che non tornerà più.